Salvini e Berlusconi avrebbero chiesto di rimandare il nodo Musumeci a dopo le amministrative, ma Fratelli d'Italia avrebbe insistito per avere subito l'ufficialità sulla ricandidatura del governatore. Doveva essere il vertice del disgelo dopo lo strappo sul Quirinale. Ma, a quasi quattro mesi dall'ultimo incontro De Visu, a fine gennaio, fallisce il confronto chiarificatore tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. E il centrodestra torna al punto di partenza, come se il vertice non si fosse svolto, per dirla con le parole di un colonnello di Fratelli d'Italia. Il tema centrale di tensione appare, ancora una volta, la ricandidatura di Nello Musumeci ha un secondo mandato alla presidenza della regione siciliana, con la leader di Fratelli d'Italia che ne chiede l'ufficializzazione subito, mentre il segretario leghista e il cavaliere prendono apparentemente tempo. Da FDI però sostengono e la tesi viene messa nera su bianco in una nota che Berlusconi, nel corso del vertice, abbia dato la sua personale disponibilità a candidare Musumeci. Berlusconi ci ha fatto vedere un testo in cui dava loca la ricandidatura di Musumeci, dicono da via della scrofa. Circostanza smentita dalle parti del cavaliere, che, a fine vertice, fa trapelare sorpresa e irritazione per la nota di FDI. FDI ha chiesto impegno per Musumeci, noi abbiamo detto che se ne riparla dopo le amministrative e sostengono da Arcore, anche se Berlusconi ha rivendicato un rapporto cordiale di stima con il governatore e si è impegnato a parlare di questa di altre ipotesi con il partito in Sicilia.